Ciao Andrea, sono proprio contento, veramente sono contento per te perché mi hai fatto sta vacanza, rilassati, tranquilli, abbiamo speso poco, siamo stati bene, ma soprattutto per te perché ti vedevo che vieni da un periodo un po' agitato, con tutte le cose che ti sono capitate, veramente a te ti è capitato di tutto, matrimonio saltato, altre cose, disgrazie, stavi proprio veramente super teso, invece ti vedo molto più rilassato, guarda, sono veramente contento che mi hai fatto sta vacanza, secondo me ti è proprio servita, guarda, stai proprio, ti vedo proprio bene. Sì, 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 sì.